La pace dell'anima di padre Jean-Nicolas Grou Prima parte Natura del cuore umano e mezzi per governarlo Dio fece il cuore dell'uomo per amarlo e per essere riamato. Dunque, per l'eccellenza del fine per il quale fu creato il cuore umano può dirsi la più nobile e la più grande opera di Dio. Nel governo di questo cuore sta la vita e la morte spirituale. Esso, che è per natura inclinato a fare tutto per amore e nulla per forza, presenta facili mezzi per essere guidato. Vigiliamo sulle cause emotrici delle nostre azioni. Non occorre fare violenza. Consideriamo d'onde nascono e dove tendono. Scrutiamo se queste cause emotrici partano dal cuore sorgente dell'amor divino o dallo spirito sorgente di umana vanità. E quando nulla ci sembrerà tutto ciò che facciamo per il Dio ed arrossiremo di fare così poco benché si faccia il possibile, allora conosceremo che è il cuore quello che ci spinge alle buone opere per impulso di amore. Invece confesseremo di essere guidati da spirito muto e mossi solo da umani interessi quando le buone opere, al posto di ispirarci umiltà e sottomissione, nient'altro in noi lasciano che illusione, fumo di vanagloria e ci fanno credere di aver fatto molto, mentre nulla di buono in realtà abbiamo realizzato. In queste osservazioni che incensantemente dobbiamo fare su noi stessi sta l'umano conflitto di cui parla Giobbe. Esse però non devono essere piene di agitazione perché il loro scopo principale è quello di dare la pace all'anima calmandone e acquietandone le ansie quando è turbata nell'agire e nel pregare. È necessario infatti persuaderci che non pregheremo mai bene se l'anima non si trova nel suo stato normale. Per conseguire questo sappiamo bene che nulla giova più delle attrattive dell'amore, uniche sole capaci a richiamare l'anima dal suo smarrimento col restituirle la tranquillità primitiva. L'anima deve essere sollecita a conseguire una perfetta tranquillità. Tale ispezione, soave, pacata e soprattutto perseverante sul nostro cuore ci condurrà facilmente a grandi cose. Ci farà non solo pregare ed agire con calma e facilità ma anche soffrire senza quella inquietudine che trascina tutti al disprezzo e all'ingiustizia. Non illudiamoci però che si possa conseguire quell'intima pace senza grandi fatiche e che ci sia dato di evitare le battaglie che a noi inesperti muoveranno i nostri formidabili nemici. Tuttavia non dubitiamo che nel conflitto purché vogliamo combattere ci vengano meno gli aiuti e le consolazioni. Stiamo certi che le forze degli avversari si indeboliranno e si dissiperanno e che noi potremmo dominare i nostri impulsi e rendere finalmente all'anima quella preziosa quiete da cui deve emergere la sua felicità in questa vita. Se dovesse avvenire che lo stimolo fosse difficile da superare perché è troppo forte il peso delle afflizioni e troppo grave per essere da noi sopportato ricorriamo all'orazione. Preghiamo e perseveriamo nella preghiera imitando Gesù che per ben tre volte pregò nell'orto degli ulivi per insegnarci che ogni spirito contristato deve cercare nella preghiera conforto e consolazione. Preghiamo dunque incessantemente finché non sentiamo il nostro interno ridotto e sottomesso a Dio la nostra volontà uniformata a quella di Dio e l'anima nostra restituita alla primitiva calma. Non procuriamoci turbamento col precipitare le azioni esteriori e se stiamo facendo qualche lavoro o manuale o intellettuale occupiamocene pure ma con tranquillità e posatezza senza prescriverci il tempo per ultimarlo e senza affrettarci per vederne la fine unica e principale nostra intenzione sia di avere sempre presente Dio con umiltà e pacatezza senza curarci d'altro che di piacergli se vi vorremmo aggiungere altro l'anima nostra si riempirà di turbamento e di inquietudine il più delle volte soccomberemo le angustie che ci toccherà di sopportare per riaverci dalle cadute ci insegneranno che il voler far tutto secondo il nostro capriccio e la nostra volontà è la causa di ogni nostro male se ciò talvolta vale a renderci paghi di vane compiacenze dopo aver conseguito l'intento nel caso opposto ci ricolma invece di dispiacere di inquietudine di disgusto la pace si edifica lentamente cacciamo dunque dal nostro spirito tutto ciò che può innalzarlo o deprimerlo rallegrarlo o perturbarlo operiamo con calma per acquistargli o conservargli la sua tranquillità poiché Gesù Cristo ha detto beati i pacifici imparate da me che sono mite e umile di cuore non dubitiamo che il Signore non sia per coronare questa fatica formando nella nostra anima una casa di delizie egli però esige che ogni qualvolta saremo agitati dagli stimoli dei sensi e delle passioni noi ci preoccupiamo di reprimere questi eccitamenti di calmare e sedare queste turbulenze istituendo la calma alle nostre azioni ora come non si può edificare una casa in un sol giorno così noi non potremmo giungere in breve tempo ad acquistare questo intimo tesoro due cose sono indispensabili per coronare tale opera che Dio stesso si edifichi dentro di noi questa dimora è che questo edificio si basi sull'umiltà grazie a tutti grazie a tutti